Volevo mandare un saluto ad Alessandro, il Gobbo Toscano, un abbraccio grande Simone Pepe Sì, ciao Simone, buongiorno a te, intanto siamo in collegamento sul canale Gobbo Toscano di Youtube, abbiamo ospite Simone Pepe, Simo come vai intanto? Molto bene, tutto la grande, bene, bene, direi un po' meno, non ti preoccupare, già grazie per la disponibilità Assolutamente Dicevo, è un po' meno bello il periodo per la Juventus e per noi juventini? Il periodo non è facile, speriamo bene nel collegio in Coppa Italia, anche se sarà una partita molto difficile perché l'Atalanta è una squadra che sta in condizioni sia fisiche che mentali che tecniche al top quindi sarà una partita difficile, la Juve non molla mai, è una finale quindi può succedere di tutto e lo spieghiamo bene Eh sì, quello sì, incrociamo le dita, quello assolutamente La Juventus ieri non per meriti suoi ma per demeriti della Roma diciamo o per merito dell'Atalanta ha conquistato matematicamente un posto nella prossima Champions League ecco, te come, che voto dai alla stagione della Juve? Complessivamente? Sicuramente, secondo me la Juve ha fatto benissimo la prima parte che magari non ci si aspettava così bene ha fatto malissimo la seconda che non ci si aspettava così male diciamo che è stata una cosa, un'annata un po' particolare l'Inter è la squadra più forte, l'ha dimostrato la Juve però comunque avendo una buona squadra, non a livello dell'Inter si pensava che potesse fare meglio invece è stata facendo e poi nella seconda parte si è un po' perso però bisogna ripartire, ecco bisogna ripartire verso un anno ma soprattutto finire finire l'anno bene provando a vincere la Coppa Italia e ricominciando con la Juve in sempre se fossi male e ricominciare a lottare da Juve per vincere certo, ecco una parentesi sulla panchina della Juventus no, non voglio che mi dici qualcosa di particolare ma semplicemente se in caso dovesse cambiare Massimiliano Allegri e quindi cambiare la direzione tecnica per la prossima stagione te vedresti meglio un Antonio Conte o un Tiago Motta sulla panchina della Juve? Tiago Motta ha fatto benissimo non lo conosco, cioè senza traduzione non lo conosco come allenatore ecco, bene come conosco il mister Conte che ce l'ha avuto per tre anni quindi sono un po' più posso essere più dettagliato sul mister e meno su Tiago ma mi dicono che è molto molto bravo pure Tiago questa è una scelta molto difficile pure da parte della società nel senso che Conte conosce l'ambiente sappiamo quello che può dare la Juve sappiamo come lavora e sappiamo che anche il giocatore forte ma non il campione lo fa rendere al massimo Tiago Motta ha fatto altrettanto col Bologna perché comunque oggi parliamo tanto di Zierke parliamo di Ferguson, parliamo di Porsche sono tutti giocatori forti ma che un anno e mezzo fa, due anni fa non conoscevano nessuno ma comunque si conoscevano poco quindi sono due bravi allenatori e speriamo che chi chi arrivi possa fare il bene della Juve questo è importante Certo, sono d'accordo con te io forse ho una preferenza per Antonio Conte perché l'abbiamo vissuto diciamo noi juventini come allenatore quindi ci dà un po' più forse di garanzia di sicurezza ci dà un po' più di garanzia perché conosce la juventinità ce l'ha dentro l'ha fatto da giocatore l'ha fatto da allenatore quindi poi è un allenatore forte frevitoso ti prepara in tutti i modi sia fisicamente sia tecnicamente sia praticamente quindi è una cosa che conosciamo Certo ma una domanda un po' particolare ma com'erano gli allenamenti con Conte? Beh, gli allenamenti erano duri ma i risultati si vedevano si vedevano quindi l'allenamento è duro ma c'è il risultato penso che anche al giocatore faccio il messaggio del sì ok faccio fatica ma rimangono la storia di uno dei club più importanti al mondo Certo certo no 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 su quello sono pienamente d'accordo ecco secondo te è giunto il momento diciamo per la Juventus di cambiare guida tecnica? Beh, guarda ti dico secondo me dopo un anno così è normale che si prende si prende spunto dall'annata e non so se anche il mister all'evi è un po' stanco è un po' più un po' più stanco non so sarà pure l'annata difficile tutto quello che è successo quindi sono valutazioni però che vanno fatte magari quando vivi tutti i giorni sei a casa se la notte vincere come come le diciamo noi da tifosi è sempre più difficile di dedicare certo è vero guarda in una recente diretta sempre sul canale youtube ho parlato con Geda no? ex Cagliari si si ha giocato con me ecco ha giocato anche con te lui è stato allenato da Allegri gli ho chiesto un po' secondo lui quale fosse la differenza dell'Allegri prima e dell'Allegri di oggi lui mi ha detto lì quando era a Cagliari o i primi anni della Juventus comunque voleva e doveva anche dimostrare quindi diciamo ci aveva anche forse una carica mentale diversa rispetto ad oggi che è come dici te anche un po' più stanco e provato anche dalle vicende extracampo che succedono intorno alla Juventus perché insomma non è facile perché la Juventus la Juventus è nata un po' complicata la Juventus ha una storia talmente importante che qualunque pareggio qualunque non parliamo neanche di sconfitta qualunque pareggio è comunque un dramma perché comunque la Juve bisogna talmente tanto vincere che quella mentalità che senti parlare la mentalità della Juventus la mentalità della Juventus sembra una parola mentalità che cosa vuol dire ma sono abitudini che ti danno da quando tu entri per la prima volta e vesti la prima volta la maglia della Juventus che sai che dovrai vincere perché chi ha giocato prima di te ha vinto chi giocherà dopo di te vincerà e quindi tu che stai in mezzo non puoi sapere tanto che vincere è vero la Juventus è tutta un'altra cosa è detto da uno che comunque c'è stato e ha dato un contributo enorme per i successi della Juventus comunque è qualcosa di importante ecco noi possiamo vederla da fuori da tifosi però chi ci ha giocato e chi ha vestito quella maglia sa che è abbastanza pesante è una cosa pesante perché quando mi ricordo in un termista il mister Conte la maglia della Juve che ha pesato tanti chili di più di un'altra maglia e questo è un po' il senso della Juventus ecco Simone te avevi una maglia tra l'altro hai avuto una maglia importantissima la numero 7 beh importantissima ci è diventata dopo sì però diciamo che te gli hai dato il via e io mi ricorderò sempre quel gol col Napoli quello per me è qualcosa da tenere come immagine fissa è una cosa che su una partita che comunque noi perdevamo 3 a 1 rispecchia un pochino quello che diciamo sempre fino alla fine nel senso non abbiamo mai ballato anche nel momento in cui il Napoli stava facendo una buona partita perdevamo 3 a 1 abbiamo continuato a lottare penso che quello ci ha riso facibili un'altra beh è vero è vero era un mix di cose rabbia cattiveria agonistica voglia non mollare mai in più anche tanta qualità tecnica lo spirito di Juve e la preparazione anche del mister ecco nel senso perché non eravamo una squadra così forte il primo anno cioè nel senso poi ci siamo dimostrati forti però comunque arrivavano giocatori nuovi il fiero lo avevano per finito l'Ikstein arrivava dall'Alessio Vidallo Vidallo non era nessuno lo aveva fatto 12 gol da Leverkusen ma lo conoscevamo in parte comunque alla fine di tutto è stato veramente un costruire qualcosa di fantastico che poi è durato negli anni per 9 anni di seguito certo certo hai pienamente ragione pienamente ragione su tutto Simone io ti ringrazio per avermi concesso questi 10 minuti veramente grazie di cuore e ti posso chiedere un favore se riesci se riesci a mandarmi un saluto in video breve breve che almeno non ti preoccupare Simo lo sai perché perché spesso che mi fanno pensano che siano voci registrate finte ora con questi programmi guarda io intanto rascarico l'audio e tutto se mi riesci a mangi manco dei gigari è vero mi basta che mi mandi che mi mandi un video e che dico ciao Ale ciao siamo Simone e Pepe perfetto vai grazie mille Simo un abbraccio ciao ciao grazie ciao